Ciao a tutti, Bill Gates vuole oscurare il sole per fermare il riscaldamento globale. Ecco come. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al nuovo canale, felicità e benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come sappiamo Bill Gates ha l'intenzione, diciamo, di dedicare gran parte dei suoi investimenti ad opere che in qualche modo vadano a favore del paese, della nazione e anche del pianeta intero. Quindi ha una fondazione filantropica e sta finanziando un team di ricerca che vuole cercare di oscurare, tra virgolette, il sole per fermare e invertire la rotta di questo riscaldamento globale che sarà una delle cose che determinerà i possibili, possibili, diciamo, scenari poco piacevoli per l'essere umano. Dalla mancanza di acqua, all'inalzamento delle acque, lo scioglimento dei ghiacciai, tutta una serie di cose che daranno molti problemi da qui in avanti, diciamo, soprattutto a partire dal 2050 e comunque anche prima. E quindi questo team di ricerca vuole, cioè sta studiando, come lanciare milioni di tonnellate di polvere di carbonato di calcio nella stratosfera per bloccare parte dei raggi solari, in modo tale che si possa abbassare, diciamo così, la temperatura del pianeta e contrastando quindi questi cambiamenti climatici. Un primo esperimento su piccola scala, diciamo, verrà condotto sul cielo del New Mexico. Ovviamente verrà dispersa, diciamo, nell'atmosfera la polvere bianca, a base di bicarbonato di calcio, che dovrebbe anche avere la funzione di riflettere i raggi solari e quindi mitigare, diciamo, gli effetti del riscaldamento globale. Ovviamente questo bisogna verificare come potrebbe essere fatto, poi questo ovviamente per adesso è uno studio, perché ci dovrebbe essere poi un'approvazione globale, praticamente, dei governi di tutto il pianeta, immagino. E comunque è un esperimento di geoingegneria solare che richiederà una lunga sperimentazione. perché, diciamo, non si può mai sapere gli effetti a catena che potrà provocare. Questo esperimento è un esperimento, diciamo, in piccolo e si basa sul lancio, diciamo, di circa 12 kg di polvere di carbonato di calcio lanciati da un pallone sonda dotato di eliche e con numerosi sensori per misurare il grado di riflessione solare. E' quindi un esperimento fatto molto in piccolo che però permetterà di vedere che cosa può succedere, cosa può succedere se veramente si può andare nella strada della riduzione, diciamo, nella riduzione della temperatura globale. Quest'idea, diciamo, nacque da quando nelle Filippine, nel 91 esplose il vulcano che, diciamo, diffuso una nube nell'atmosfera, bloccando in parte i raggi solari e contribuendo alla diminuzione delle temperature globali di circa 0,5 gradi centigradi, per cui gli scienziati ritengono che liberare milioni di tonnellate di polvere nella stratosfera possa essere una soluzione valida. Anche se i rischi ovviamente sono altissimi perché potrebbero essere, diciamo, non sapendo esattamente tutta la catena di avvenimenti che andranno a produrre, potrebbero esserci degli effetti che potenzialmente potrebbero essere più gravi del rischi ad aumento globale. Ad esempio non si sa come queste polveri potrebbero agire sugli strati di ozono, perché potrebbero anche abbattere lo stato d'ozono che ci protegge dalle radiazioni più letali, modificare il ciclo della pioggia e molto altro. Quindi questo scudo chimico, diciamo così, per adesso è un'idea, però vedremo come si evolveranno gli studi. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!